Buongiorno a tutti, sono qui per presentarvi un video che con un po' di ritardo mettiamo online. È un video che abbiamo girato un po' di mesi fa a Genova, su un tema che è ancora molto molto attuale, una convention, un meeting che abbiamo organizzato con i ragazzi e le ragazze, Elisa Boeri soprattutto, del Capito Liberi oltre Liguria. È stato un meeting, un convegno che abbiamo fatto, volendo trattare questo tema della mancata applicazione della Bolkestern in Italia, con relatori sia interni di Liberi oltre, adesso vi dirò i nomi, e poi con docenti dell'Università di Genova. C'era un Andrè Felici, che è un cartografo, un nostro iscritto, che ha presentato un piano dettagliato dell'applicazione, o meglio, dell'assegnazione delle concessioni balneari nel territorio Ligure. C'era il professor Francesco Munari, ordinario diritto dell'Unione Europea, che ci ha descritto quali sono i termini nel dettaglio della normativa Bolkestern. C'era il professor Maurizio Conti, coordinario di politica economica, sempre all'Università di Genova, sugli effetti economici della mancata applicazione della direttiva Bolkestern sul settore italiano. C'era poi Silvia Moggia, che è una data strategist, che ci ha parlato dello sviluppo del business balneare come attrattore del turismo. Quindi, buona visione a tutti quanti, spero che appreziate. È un video assolutamente interessante, assolutamente importante e quanto mai attuale. Io sono Andrè De Felici, sono geologo, ma mi occupo da anni di cartografia digitale. In questa presentazione volevo illustrarvi alcuni delle fonti dati ufficiali e dei numeri più interessanti, diciamo, riguardo all'utilizzo della fascia costiera in Liguria. Infatti, diciamo, il nostro percorso sarà quello di analizzare le destinazioni d'uso del demanio marittimo e successivamente andremo a confrontare il rapporto tra spiagge libere e stabilimenti balneari e vista, diciamo, la tematica di questo incontro. Allora, per prima cosa partiamo col demanio marittimo, che sarà, diciamo, la fonte dati principale. Il demanio marittimo è quella porzione di territori che comprende le spiagge, le rade, i porti, eccetera, eccetera, che compongono le nostre coste e che sono di proprietà dello Stato, ma, diciamo, nel corso degli anni, attraverso vari interventi legislativi, le relative funzioni amministrative sono state poi portate alle regioni, ai comuni, alle capitanerie. Allora, la fonte principale di questo studio è il piano di utilizzo del demanio marittimo, o PUD, che è lo strumento informativo e pianificatorio con cui Regione Liguria raccoglie ed organizza tutti i piani di gestione della costa consegnati dai comuni che si occupano, appunto, di redare questi piani. I dati sono liberamente accessibili e scaricabili, io parlo di dati cartografici, quindi di mappatura delle concessioni, attraverso il geoportale regionale di Regione Liguria, cioè un portale cartografico attraverso il quale si possono consultare e anche scaricare moltissimi dati territoriali gratuiti. Qui, brevemente in sovraimpressione, avete il link al catalogo delle mappe di Regione Liguria e le modalità per cercare questo tema, che sarà il tutto progetto di utilizzo del demanio marittimo. Allora, praticamente, quando ci si collega al sito, abbiamo una mappa in cui è possibile navigare interattivamente e consultare la leggenda in alto a destra, non solo, ma è possibile anche interrogare gli elementi che si trovano in mappa. In questo caso abbiamo una zona ricca di stabilimenti balneari vicino a Sestri Levante. Non solo, è possibile anche scaricare i dati, chiaramente è un formato geografico che va gestito semplicemente, diciamo, iscrivendosi nel form che è segnato lì. Quindi, uno, scaricare, due, compilare il form. Praticamente viene mandato un'email con un link ai dati da scaricare. Ok, ci siamo. Vediamo un attimo in cosa consiste questo PUD. Diciamo, la pianificazione non copre l'intera costa, ma soltanto quelle aree di costa che sono suscettibili di pianificazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che non vengono trattate le coste alte rocciose, i porti industriali, gli aeroporti, eccetera, eccetera. Quindi, in realtà, a causa anche della particolare conformazione morfologica della Liguria, in realtà, alla fine, questo piano compre circa il 50% della costa. Non sono in grado di dare dei numeri precisi, perché attualmente non sono stati consegnati i piani di tre comuni, per cui che sono la Spezia, Sarzana e Piedeligure. Comunque, un esempio qui vi faccio vedere. Qui siamo a Vesima. Come vedete, la parte della spiaggia è normata dal PUD, ma la parte della scogliera artificiale no. Quindi, quando andremo a parlare di risorsa, andiamo a considerare le aree che sono effettivamente sfruttabili, e non tutto, ecco. Allora, vediamo un po', qui, diciamo, senza scadere in tecnicismi, sostanzialmente questi dati possono essere gestiti da programmi geografici, che si chiamano GIS, e sono anche gratuiti. La cosa interessante è che queste mappe ci formiscono, oltre che alla geometria, delle informazioni. Le informazioni che noi abbiamo utilizzato per fare questo piccolo lavoro, questo studio, sono sostanzialmente l'area interessata, il tipo di attività dichiarato, il fronte mare sotteso, quindi la linea, diciamo, di costa interessata, e il comune di appartenenza. Con queste quattro informazioni abbiamo ricavato moltissimi dati. Un'altra osservazione che faccio è che questi dati del PUD, del piano appunto di utilizzo del demanio, possono essere presi in considerazione o quelli dello stato attuale o quelli dello stato di progetto. In realtà in questo studio è stato preso in esame lo stato di progetto, perché anche secondo gli addetti ai lavori, in realtà è molto più congruente con la situazione reale della costa, per cui abbiamo analizzato lo stato di progetto. Ecco, qui in questo grafico vediamo la ripartizione di tutte le attività, di tutte le attività sulla costa su base reale. Per, diciamo, rendere più comprensibile la cosa, vi dico che sostanzialmente le attività turistiche occupano circa i tre quarti della superficie normata dal PUD, quindi stiamo parlando di porti turistici e punti di ormeggio, spiagge libere, spiagge libera attrezzata e stabilimenti balneari. Sostanzialmente circa i tre quarti della superficie normata dal PUD riguardano temi di tipo turistico. Qui a fianco c'è una breve leggenda con tutte le varie indicazioni, quindi abbiamo anche pesca sportiva, miti di coltura e varie altre attività. Andiamo avanti, adesso andiamo a concentrarci proprio sul tema del turismo e lo faremo guardando provincia per provincia. Allora, ho raggruppato nella categoria altro tutte le attività non congruenti con il turismo. Quindi, vediamo adesso la rivela di Ponente. Allora, nella provincia di Imperia prevalgono i porti turistici e i punti di ormeggio, mentre quella di Savona nettamente gli stabilimenti balneari. Vediamo la rivela di Levante. La rivela di Levante a Genova, diciamo, c'è una ripartizione abbastanza equilibrata, fa spiaggia libera, stabilimento balneare e porto turistico, mentre di nuovo nello spezzino prevalgono i porti turistici e i punti di ormeggio. Ripeto, non è tutta la costa Ligure, ma è soltanto quella normata dal PUD. Andiamo avanti, andiamo a concentrarci ancora di più sul tema balneare e andiamo a prendere in considerazione fra le aree turistiche solo quelle che sono effettivamente balneabili. Quindi andiamo ad escludere i porti, in questo caso. Queste sono le sole zone del piano che ha senso considerare se si vuol discutere della quantità cosiddetta di spiaggia libera, perché tutto il resto sono altre destinazioni. Quindi queste sono le uniche categorie del piano che vanno considerate quando vogliamo valutare la risorsa spiaggia libera. Questa è la situazione generale della Liguria. Quindi andando a considerare solo le aree balneabili del PUD, il 52% sono stabilimenti, poi tra spiaggia libera e spiaggia libera apprezzata arriviamo a un 37%, poi sostanzialmente siamo a metà e metà. Quindi il 50% dei stabilimenti sono tanti, sono pochi. Come possiamo valutare questo aspetto qua? Uno delle possibili metri di valutazione per il rapporto fra spiaggia libera e stabilimenti per esempio è la legge regionale 1399. Questa legge regionale stabilisce che nei progetti di utilizzo delle aree demaniali i comuni debbano garantire una percentuale minima di aree balneabili libere e libere attrezzate pari al 40% del fronte totale delle aree balneabili. Se questo 40% non viene raggiunto, allora i comuni non potranno rilasciare nuove concessioni. Ora l'approccio è diverso da quello che abbiamo visto fino adesso. perché finora abbiamo considerato il demanio marittimo a livello areale. In questo caso la legge ci dice invece di effettuare una misura lineare, cioè viene valutato il fronte mare, quindi il tratto di costa afferente a quel determinato elemento. Qui comincia a sorgere qualche dubbio, nel senso che i dati ufficiali di regione che vengono trascesti dai comuni sono abbastanza incerti. Quindi io ho parlato con i tecnici di regione, sostanzialmente hanno ridisegnato, rimisurato l'estensione del fronte mare, fatto queste misure lineari che sono più precise perché sono su base di cartografia di ventaglio, però non hanno carattere di ufficialità. Quindi noi prendiamo le cose come sono. Vediamo quali sono i risultati. Applicando le metodologie descritte dalla legge regionale 1399, qui abbiamo in linea generale in tutta la Liguria una percentuale di spiaggia libera e libera attrezzata intorno al 50%. Ma in realtà la situazione è molto variabile da comune a comune. Qui abbiamo raggruppato tutti i 63 comuni costieri della Liguria, compresi la Spezia, Sarzana e Pieve Luigole, che non sono noti come valori, raggruppati per provincia, da cui abbiamo ulteriormente evidenziato in rosso i comuni la cui percentuale minima di spiagge libero e libero attrezzate non raggiunge i requisiti per poter dare nuove concessioni. Quindi sostanzialmente vedete che è la provincia di Savona quasi tutta. Mentre poi c'è qualche altro comune spasso per la Liguria, ma sostanzialmente è la provincia di Savona. Vediamo qualche numero. Allora, su un fronte mare balneabile totale di oltre 100 chilometri, il 46% più o meno è occupato dagli stabilimenti balneari, abbiamo un buon 50% tra spiaggia libera e spiaggia libera attrezzata. Come ripeto, appunto, molto dipende dalle zone. Analizziamo le provincia per provincia. Allora, per Savona abbiamo visto 61 balneare, il stabilimento balneare, spiaggia libera 25 più 6, spiaggia libera attrezzata 7, prevalgono nettamente gli stabilimenti, almeno nella provincia di Savona. Per altre tre province, la percentuale di stabilimenti balneari è variabile tra il 32 e il 39%, per cui, diciamo, la situazione è un po' più, come dire, equilibrata. Torno un attimo, abbiamo parlato di misure lineare, torno un secondo alle misure areali, qua ho fatto una banale media, da cui risulta che praticamente la superficie media degli stabilimenti balneari sono sui 2.000 metri quadri e le spiagge libera i 1.600. Quindi, però, questa è una, proprio una media fra tutto, fra tutti i valori, ecco. Quindi, abbiamo parlato di provincia di Savona e, in effetti, in alcuni comuni, come Alassio, L'Aiguelli, L'Oano, eccetera, eccetera, si tratta praticamente di, quasi, della saturazione. Qui, a fianco, ho evidenziato un tratto di costa presso L'Oano e, in rosso, sono segnati gli stabilimenti balneari. A livello, addirittura, di regione, c'è il cosiddetto rapporto spiagge di legambiente del 2022 che attribuisce alla regione Liguria dei numeri da record, addirittura a livello europeo. Quindi, si distacca un po' da questo studio che ho fatto a cui risulterebbe che solo il 52% delle coste si occupano di stabilimenti. In realtà, lo studio di legambiente è limitato alle aree sabbiose e con la costa bassa e sappiamo che in Liguria non predominano. Senz'altro, qui, ho riportato i dati ufficiali riguardo alla composizione della costa Ligure. Quindi, vedete che ci sono porti, composizione rocciosa, sabbiosa e ciuttolosa. Come vedete, la sabbiosa, in realtà, rappresenta una percentuale minima. Quindi, anche lì, se si vanno a considerare soltanto le coste basse e sabbiose, ma, ripeto, per la Liguria forse è un po' limitativo, abbiamo i numeri più alti in Italia, cioè abbiamo, secondo il rapporto di legambiente, la percentuale di costa sabbiosa occupata da stabilimenti balneari più alta d'Italia, pari al 69,9%. Comunque, siamo seguiti a ruota da Emilia Romagna e Campania. Un altro dato interessante, diciamo, di questo rapporto è che la Liguria ha il maggior numero di concessioni balneari per chilometro di spiaggia. Questi sono i confronti con le altre regioni. Un'altra caratteristica, diciamo, interessante della nostra regione è il fatto che, avendo i monti alle spalle molto vicini, è molto facile che i litorali siano attraversati da foci di torrenti che potrebbero, in qualche maniera, rifluire sulla qualità delle spiagge e della balneazione. In questo caso, sono tutti i dati che ho calcolato io, praticamente utilizzando un software di analisi territoriale, ho valutato la percentuale di areali, di stabilimenti balneari e di spiagge libere e libere attrezzate che si trovano entro una fascia di 20 metri dalla foce di un rivo. Chiaramente questa è un'analisi generale, poi le situazioni più o meno importanti variano caso per caso, però da questa analisi preliminare generale risulta che la percentuale di spiaggia libera e libere attrezzate a entro 20 metri dalle foci è il 9%. Per quanto riguarda invece gli stabilimenti maldeari abbiamo circa 6,6%, quindi uno può pensare che le spiagge libere sono tutte vicino alle foci, di sì e no, insomma. Quest'analisi molto generale dà questi risultati. Oltre al piano di utilizzo del demanio, un'altra fonte ufficiale che ho utilizzato è un dato che non è geografico, è semplicemente una lista. Questa è una lista ufficiale di strutture balneari che si può ritrovare dal sito di Regione Liguria risalenta al 2019. Anche in questo caso, prendendo solo il valore numerico indipendentemente dall'estensione, abbiamo una netta predominanza degli stabilimenti nella provincia di Savona, abbiamo al 59%. Questi sono dati ufficiali di qualche anno fa. Tornando sempre a questa lista, ho fatto anche, siccome c'erano le informazioni, una distinzione tra il tipo di spiaggia. Vediamo che negli stabilimenti balneari prevale l'arenile di sabbia, con il 62%, mentre per quanto riguarda invece le spiagge libere e libere attrezzate, ci si attesta a metà e metà fra sabbie e ciottoli. Anche questo può essere un indizio della qualità della spiaggia, se vogliamo. Un'altra fonte dati ufficiale sicuramente a tenere in considerazione è il sistema informativo del demanio, o SID, cioè praticamente quella banca dati nazionale verso cui vanno a confluire tutte le informazioni amministrative relative al demanio marittimo. Quando i comuni fanno il loro piano del demanio, mandano a regione alcuni dati, mentre per quanto riguarda il SID credo, però non ho conferme diciamo molto diffuse, che in realtà molto spesso si tratta solo di informazioni amministrative non geometriche. Nonostante questo, diciamo, il sistema informativo del demanio è la fonte dati principale a cui si è attinto il Ministero delle Infrastrutture per la mappatura della risorsa spiaggia. E a questo punto vediamo alla questione scarsità. Dai risultati del lavoro portato avanti dai tecnici appunto del Ministero risulterebbe che solo il 33% delle coste italiane risulti oggetto di concessioni. Il problema è che in realtà non sono riuscito bene sinceramente a capire le metodologie di valutazione di questa risorsa. Io vi riporto più che altro dati giornalistici nel senso che non sono riuscito a trovare personalmente delle fonti. Io siccome lavoro un po' in questo campo anche le coste le ho misurate vorrei capire esattamente come è stato qua. Però mi sorge qualche perplessità. Innanzitutto dovrebbero essere dati incerti perché è complesso misurare la lunghezza di una spiaggia. Può farlo benissimo chi ha sempre esperienza in questo campo però rifacendomi a dati giornalistici vedo che la lunghezza della costa calcolata dal ministero sarebbe di circa 11.000 chilometri che sinceramente sono 3.000 chilometri in più di quelli ufficiali dell'ISPRA che è l'Istituto Superiore di Protezione Ambientale. Già questo potrebbe essere un dubbio. Poi come abbiamo visto per il PUD viene normata soltanto una parte della costa quindi sarebbe logico sarebbe giusto quando si valuta la risorsa spiaggia andare a escludere la costa alta rocciosa inaccessibile le aree non balneabili i porti e tutto il resto e qui non mi è chiaro diciamo come è stata fatta questa valutazione ad esempio addirittura secondo rapporti legambiente ben il 7,7% delle spiagge sono soggette di vieto di balnazione quindi ci sono delle cause che impediscono le balneazioni in tutta l'Italia quindi anche questo bisogna vedere quando si valuta la corsa sono parametri che dobbiamo considerare e in ultimo lo stesso ragionamento che mi viene da fare quando penso alla Liguria valutando l'interna nazione come un blocco unico si rischia di aggregare situazioni locali che sono molto diverse l'una dall'altra quindi fornire delle informazioni che non sono precise perché alcune alcune disposizioni che potrebbero andare bene in aree diciamo con la costa occupata al 20% non potrebbero andare bene in aree in cui la costa è all'80% occupata da stabilimenti quindi diciamo definire anche la questione scarsità è anche una questione di di metodo di di sensibilità su certe cose che non mi sono state diciamo che non ho ben capito ecco da quello che è stato fatto dal ministero quindi niente in conclusione questa queste breve diciamo presentazione semplicemente volevo sottolineare il fatto come l'attività balneare in Liguria sia comunque importante non parlo dal punto di vista socio-economico manco semplicemente dall'occupazione da parte secondo l'occupazione della costa quindi sicuramente è un'attività che è molto importante nella nostra regione per quanto riguarda la questione scarsità effettivamente a mio parere la scarsità esiste specialmente nella riviera di Ponente tenendo anche conto diciamo del bacino d'utenza di questa riviera si parla del nord-ovest quindi i numeri sono questi ecco poi le conclusioni magari tra i te e voi grazie per attendere credo che sei andato a smarcare un primo punto vale a dire quello appunto della scarsità per chiunque abito in Liguria o frequenti la Liguria non ci hai detto una cosa che non sapevamo o che non c'eravamo del tutto resi conto ma vederla confermata così con analisi così certosina è certamente un problema più importante per la discussione all'approfondimento e qui entra in campo l'assetto l'inquadramento giuridico di questa scarsità che è una caratteristica economica se vogliamo del bene del bene del bene e entra in gioco il ruolo della direttiva Volpesta è una direttiva che si occupa di se lo sciamo ne parliamo prevalentemente in relazione a spiagge e poche altre cose la Volpesta è una direttiva che sale nel 2006 e si occupa di una grande quantità di servizi per i quali disciplina le modalità attraverso cui deve avvenire la concorrenza in particolare in quei casi in cui questi servizi incrociano delle competenze pubbliche statali eccetera come la gestione dei beni demandali e che è oggetto di un lunghissimo contenzioso tra l'Italia e la Commissione Europea che a più riprese ha contestato al nostro Paese appunto il fatto che in particolare ma non solo in relazione alle concezioni demaniali e alle concezioni balneari non stiamo rispettando quando ci sono intervenuti nel tempo vari gradi di giudizio vari organi giuridizionali e qui siamo chiamiamo quindi di aiutarci a mettere a fuoco la questione cioè come dire a tradurre nel loro impatto giuridico le considerazioni che ci sono state dentro della giuridice a la Commissione comunale che è ordinario di diritto dell'Unione Europea presso l'Unione Cittadina di Genova e partner grazie mille grazie grazie mille anche allo Stagnaro e all'Associazione Liberi Oltre Illusioni per questo invito allora non parlerò diciamo da un punto di vista universitario vorrei essere molto molto piatto e naturalmente sono molto lieto se poi mi verranno fatte delle domande perché su questo argomento potremmo parlare dei giorni ma avendo diciamo 15-20 minuti al massimo vorrei cercare di dare alcune indicazioni e premetto che io nel merito come dice anche il titolo della mia relazione questa situazione di incertezza non giova a nessuno in particolare non giova agli imprenditori del settore e che in questa incertezza non riescono a programmare alcun che non riescono a rendere quindi come vorrebbero le proprie attività interditoriali allora parto 30 secondi soltanto per collegarmi a quello che è stato appena detto da Andrea De Felici in termini di risorsa scarsa la risorsa è sicuramente scarsa in quanto sia rilevante comunque la scarsità della risorsa e vi dico non è rilevante rispetto al documento tecnico di cui parlava anche Andrea sul 33% di spiagge concesse restate apparentemente libere allora vi leggo soltanto quello che scrive la commissione che ha esaminato il famoso risultato del tavolo tecnico del governo italiano che dice non riflette una valutazione qualitativa delle aree in cui effettivamente è possibile sformire i servizi di cui stiamo parlando e del resto diceva anche Andrea non tiene conto delle situazioni specifiche a livello regionale e comunale quindi se noi dovessimo anche solo per un attimo ragionare in termini di scarsità della risorsa dovremmo dire che comunque la scarsità andrebbe misurata in funzione dei soggetti che amministrano il demagno e cioè i comuni e quindi bisogna vedere la comune per comune e se andiamo in questa china ho la sensazione che tutti i comuni che hanno un minimo di attività balneare abbiano già ampiamente esaurito la scarsità delle loro risorse dico un'altra cosa e poi non ne parlo più perché davvero questa della risorsa scarsa è l'ennesimo tentativo acrobatico causinico di trovare degli appigli per non guardare in faccia la realtà e cioè che la risorsa scarsa è francamente come dire ingannevole in una prospettiva diacronica perché se anche fosse vero che abbiamo ancora il 10% di demanio da allocare per concessione una volta che sono alloccati torniamo nel problema della risorsa scarsa quindi cioè alla fine avremo dei soggetti che hanno stadi di protezione diversa in funzione di un periodo temporale che non ha alcun fondamento giuridico e francamente ci sono anche dei principi di ordine costituzionale cito quello della iniziativa economica privata soprattutto dei principi di eguaglianza che sono un po' stridenti con l'ipotesi per cui Varga invece ha detto chi ha avuto ha avuto chi ha dato passi anche perché obiettivamente non si può pensare di trattare un settore così importante per il nostro paese e per la nostra regione in questo modo allora diciamo seriamente da dove veniamo e dove andiamo perché qua disgraziatamente temo che sia stata fatta una pessima operazione di batteratura informativa vada culturale nei confronti del comparto da una serie di tutti di governanti o di soggetti che avevano potere decisionale che hanno come spesso avviene ma ormai purtroppo bisognerebbe imparare e reagire uno degli obiettivi di questa associazione mi sembra quello di aprire giochi di persone bisognebbe fare un'operazione verità allora prima del 2009 noi avevamo una legislazione che indicava le concessioni come suscettibili dal cosiddetto diritto di esistenza e cioè che teniamoci il codice navigazione 1942 regolamento al codice 1954 comunque stabilivano che le concessioni dovessero se per le concessioni di maggiore di maggiore interesse ci dovesse essere un certo tipo di evidenza pubblica e che quindi dovessero essere regolarmente poste a gara con il diritto di insistenza che se volete è una specie di diritto di prelazione per cui a parità di offerta prevale il soggetto cosiddetto in cambio cioè quello che c'era già intendiamoci già l'ipotesi di prevedere una possibilità di fare delle procedure istanze riparte pubblicate permettere in concorrenza sulle eventuali ipotesi di soggetti che intendono anche loro svolgere la stessa attività nell'ambito dello stesso demanio fa parte di un elemento essenziale della scelta del nostro legislatore di avere il demanio ne parlava della defedici articolo 822 del codice civile il demanio è una risorsa strategica per questo per cui lo stato non vuole trasferirne la proprietà se ne riserva la proprietà e consente l'uso dei soggetti privati in funzione di valutazioni che secondo la legge articolo 37 del codice garantiscono il più profitto sfruttamento del demanio anche perché vogliamo dircela tutta se dovessimo fare cassa col demanio bisognerebbe vendere ma allora sì che aggiustiamo anche il bilancio dello stato e basta dire che questo sarebbe possibile per dire che probabilmente il litorale intorno a Santa Margherita Portofino piuttosto che non lo so Capri magari rende un po' di più allo stato piuttosto che altre parti della costa che quindi non sono uguali tra di loro ontologicamente e questo ce lo diceva anche Andrea allora se il demanio è strategico per lo stato l'idea che qualcuno possa occuparlo si ne vive è già di per sé un po' strano aggiungo ma non per essere provocatorio ma semplicemente per cercare di far ragionare la gente sui basics di questo problema che si sono completamente perduti a fronte scusate di questioni da Zecarbo Garbugli e la scarsità della risorsa allora i titoli nobiliari sono quelli che passano di generazione in generazione allora il demanio non mi pare che sia un titolo nobiliare per cui quando qualcuno mi viene a dire ma mio nonno aveva la conoscenza di mio padre lo devo fare anche così però come dire forse forse non è così privo di perplessità una roba del genere possiamo pensare che è vero che nell'economia italiana e questo secondo me dobbiamo recuperarlo per la pars constra in tutto ragionamento in Italia noi siamo bravi a fare le cose mediamente perché fin dall'epoca delle corporazioni abbiamo imparato i mestieri che sono stati come dire conservati dai vecchi insegnati ai più giovani e così via e questo meccanismo economico che ha come dire caratterizzato la stagione del nostro paese da sempre ha generato anche imprenditori del settore che sono sicuramente molto capaci perché in Italia questo tipo di attività adesso non ci sono più le slide ci sono soltanto le teste pelate lo scritto ma in questo settore effettivamente abbiamo sviluppato attività di eccellenza guardatevi intorno chi è andato al mare in Spagna in altri posti effettivamente la qualità dei terminati di servizi non è migliore rispetto alla nostra perché come sempre quando gli italiani fanno certe cose le sono abbastanza certe detto questo l'idea che siccome le faccio bene non debba mai essere soggetta a nessun tipo di verifica è obiettivamente come direi un argomento che non è il calcio e allora quando il legislatore richiesto dall'Unione Europea nel 2009 tolse il diritto di insistenza accompagnò l'eliminazione del diritto di insistenza a una prima proroga legale perché dobbiamo vedere le cose per come sono successe nel 2006 la direttiva Wolkenstein esce ma nessuno ci fa caso la direttiva Wolkenstein è stata attuata dal nostro dirame tra l'altro nessuno ne parla c'è il decreto legislativo 59 del 2010 che è dato azionale la direttiva Wolkenstein e in quella sede gli stati membri avevano l'opportunità di individuare possibili eccezioni al regime della direttiva preventivamente rispetto al recepimento della direttiva stessa e se ci fossero state delle motivazioni al solito come dire il nostro paese ha recebito la direttiva senza forse un problema ma non lo dico per i concessionali degli stabilimenti balneari lo dico per tutti i servizi di questa direttiva che copre orizzontalmente dagli amministratori di condominio ai mediatori marittime ai parrucchieri a chiunque allora noi abbiamo perso come Italia nell'ottica che ci sia un contenzioso che poi è finto cioè un contenzioso e pura propaganda sulla pelle dei comuni che rischieravano dal primo gennaio probabilmente indagini dalla Procura della Repubblica Corte dei Conti e quant'altro e sulla pelle dei concessionari a cui è stato fatto credere che ci fosse Babbo Natale che notoriamente ad una certa età invece non bisognerebbe più crederci allora quando lo Stato italiano nel non recepire o non cogliere la possibilità di avere un regime particolare per questo settore nel togliere il diritto di insistenza e nel prorogare per i primi sei anni le concessioni in una logica transitoria ha fatto questa operazione l'operazione verità doveva dire ok ragazzi è finito il regime adesso abbiamo sei anni di tempo per prepararci a nuovo cerchiamo di sfruttare dal medio e invece ci siamo dimenticati di questi basic cioè come quando uno si sveglia e dice perché mi sono sposato vent'anni fa non lo sapevo non riconosco più mia moglie ma invece probabilmente bisognerebbe guardare indietro per capire che cosa era successo allora da lì poi sembra che ci sia la commissione Bruxelles Borchestein brutti e gattivi e lo Stato italiano che difende estrenuamente questo non è così noi abbiamo fatto delle leggi vergognose di proroghe automatiche che hanno illuso gli imprenditori del settore e non li hanno consentiti di prepararsi io faccio anche di mestiere l'avvocato come è stato detto e come forse qualcuno di voi sa ma io ho detto a molti imprenditori negli anni scorsi fate una domanda al vostro comune chiedete di pubblicare la domanda per avere una concessione associato al piano di investimenti la pubblicano nessuno verrà a cercarli e si è letto un titolo stabile allora io ci ho anche provato in questa città morale i funzionari del comune hanno capito fischi per fiaschi fino a quando non ho ritirato ho fatto ritirare l'istanza a un concessionario che mi aveva dato fiducia ma purtroppo come dire ci sono anche altri elementi che ho è di 15 giorni fa una sentenza del consiglio di stato che rispetto esattamente a questo modello ha garantito il rinnovo ventennale ad alcuni concessionali che avevano fatto domande da un determinato comune d'Italia e che quel comune grazie al fatto che qualcuno leggeva le regole invece di far finta aveva semplicemente pubblicato la domanda sfogando quel momento pubblicitario che è richiesto ai fini della della validità del titolo come insegna o come richiede il diritto dell'Unione Europea quindi non stiamo parlando di problemi di astrofisica particolarmente complessa questa cosa poteva essere gestita molto bene molto semplicemente molto in accordo con il cluster interditoriale di cui stiamo parlando semplicemente facendo le cose che il codice della navigazione stabilisce di fare da 1954 allora che succede succede che adesso riene la plus obiettivamente cioè col 31 dicembre tra le altre come dire lost in translation la sentenza di Cassazione ha annullato le due sentenze gemelle del Consiglio di Stato e qui le quali avevano detto che la proroga del 2033 era francamente illegittima e quindi ritorniamo alla proroga non è vero c'è il tardo Roma del 15 dicembre quindi quattro giorni fa che dice di cosa stiamo parlando i principi sono ampiamente vigenti quindi c'è continuamente un illudere le persone creando smarrimento che determina obiettivamente una situazione non per nulla corretta quindi dobbiamo uscire allo scoperto per fare delle procedure biblicate e gli strumenti che io sto facendo praticare da alcuni comuni italiani che da tempo hanno cominciato a porsi seriamente questo problema sia in questa regione che in altre sono strumenti che in nessun modo perché intendiamoci il comune ancor più del governo ha un rapporto di vicinanza con i propri citativi con gli imprenditori del proprio comune cioè non ho visto mai parlando in nessuno delle tante ipotesi di lavoro tavoli nei quali sono stato lavorato in questi ultimi anni cioè il sindaco piuttosto che l'assessore che vuole fare tra virgolette macelleria sociale voglio far venire i plutocrati russi e sbancare tutto l'arenile per fare le coste con le pietre preziose cioè non c'è nessuno che vuole fare una roba del genere allora come facciamo a uscire da questa impasse garantendo soprattutto agli imprenditori del settore tempo dell'investimento ammortamento dell'investimento progettualità coerente con i piani regolatori con i piani delle spiagge con i piani urbanisti con tutte cose che negli anni si sono stratificate valorizzare al meglio le capacità imprenditoriali in una situazione nella quale io ho la certezza del mio titolo so che per 10 anni 15 20 a seconda della montata dei miei investimenti sono lì padrone e faccio le cose come voglio fare cioè sviluppo non un'attività come purtroppo è necessitata spesso tra virgolette di sussistenza perché quest'anno ancora la stagione un altro anno chi lo sa è venuta amareggiata dovrei fare dei lavori nuovi non ci riesco perché cosa mi succede tra un anno queste sono preoccupazioni ipercompressibili per gli imprenditori del settore che non sono sanabili attraverso le dichiarazioni radiofoniche televisive o i lanci di tre righe di qualcuno che sta a Roma o da qualche altra parte che dice tutta sta roba non si tocca faremo opposizione non andiamo da nessuna parte la giurisprudenza è granitica dal punto di vista della necessità di fare procedure di evidenza pubblica ci sono alcune procure della Repubblica che stanno affilando le armi e a Genova purtroppo qualcuno ne ha fatto le spese come è noto a tutti spero ma dal 1 gennaio 24 i comuni che non si muoveranno rischiano alcuni comuni stanno gestendo io seguo un comune che ha tipo 500 concessioni vanneari si trova dall'altra parte di questo di questo paese quindi potete immaginare dove sto più o meno andando a parlare allora se tu hai 500 concessioni e arrivi a metà dicembre che devi ancora fare il primo atto come dire di governo su questa roba qua probabilmente l'unica cosa che puoi fare è immaginarti di fare una procedura di evidenza pubblica con un termine dove dice a tutti che devono preparare una loro offerta per porzioni di demanio che il comune intende assoggettare a evidenza pubblica in altri casi c'è la procedura del corice della navigazione che è quella ad esempio scelta in un altro comune questo della Liguria dove c'è un termine o si vuole dare un termine tra il quale i concessionari che sono interessati a proseguire il rapporto di concessione fanno una domanda la corredano con un piano di investimenti che sia coerente con gli strumenti urbanistici pianificatori regolatori e chiedono la pubblicazione di questa domanda sulla quale potranno esistere come no domande concorrenti ma badate che nella maggior parte dei casi il comune è in grado di limitare l'azzardo su questo tipo di situazione perché non c'è nulla di male ed è quello che è stato fatto negli atti programmatici di cui mi sto parlando a valorizzare le ragioni della piccola media impresa le ragioni delle imprese familiari le ragioni dell'esperienza specifica nel comparto cioè se mi arriva ripeto l'oligarca russo o lo sceicco che come dire decide di prendersi tutta la versilia così parliamo di un posto che non è in Liguria cioè i comuni hanno ben ragione a dire no io intendo e lo vedete nei documenti pianificatori che ha presentato Andrea poco fa io intendo destinare le demanio a certe cose diverse io ho avuto dei casi sempre nell'Adriatico dove è stata valorizzata dove è stata valorizzata un certo tipo di demanio a scopi sociali perché il demanio è pubblico anche perché non deve essere necessariamente ad appannaggio di che paga di più perché io esperienze alla twiga o billionaire francamente mi fanno un po' rivrezzo nel senso non siamo tutti in grado di andare a cortina piuttosto che andare a twiga e spendere credo 500 euro al giorno per due ombrelloni una roba capite allora questo non è la scelta dello Stato italiano quando ha deciso di demanializzare perché il demanio serve a controllare che sia fatta una fruibilità in funzione di diverse vocazioni che possono essere l'associazionismo sportivo che possono essere le scuole che possono essere i soggetti con disabilità possono essere mille cose che nello sviluppo di un pensiero pubblico di interesse generale il comune può decidere di mettere in linea e quindi vi dicevo in questo importante luogo turistico dell'Adriatico il più grande compendio di spiaggia balneare da sempre destinato al turismo dei ragazzi meno ambienti che vanno d'estate in vacanza rimane così e non me ne frega niente che ci sia lo sceico che mi darebbe 500 milioni di euro per prendersi il chilometro e mezzo di spiaggia perché io lì da sempre ci mando le scuole d'estate e voglio continuare a usare il demanio così perché non voglio fare cassa e non sto facendo quei ragionamenti che dall'altra parte si sentono dire 106 milioni di panini demaniali presi a fronte di 5 mila miliardi di ricavi del settore che non pagano l'estate questa roba qui non ci interessa cioè facciamo dei ragionamenti seri e i ragionamenti seri sono c'è la possibilità per il comune è quello che è il mestiere perché non tutti come dire i funzionari comunali molti sono svegli ma non tutti hanno magari la sensibilità di dire io faccio questo vorrei mettere questo tipo di servizio questo tipo di ristorazione questo tipo di quindi ben vengano proposte dei privati perché è quello che succede nei porti non è che è l'amministrazione portuale che decide come vuole un terminal glielo dice il terminalista aspirante tale in questa situazione è facile anche trovare col comune che ripeto poi deve andare alle elezioni quindi non è che lo poterà il prossimo oligarca trovare delle modalità di gestione corretta del proprio territorio in funzione di salvaguardare tutta una serie di stanze che nel territorio ci sono e se ci sono è perché ci sono questo tipo di territori e ci sono perché va bene detto questo tante cose devono anche essere migliorate e cambiate perché probabilmente le cabine di plastica che andavano bene negli anni 70 oggi forse la valorizzazione di una città e di un tessuto turistico banale come il nostro meriterebbe qualcos'altro e sono convinto che questo sia una volta che siamo usciti dalle bugie perché francamente di queste si tratta sia un percorso molto dialogico che possono fare sia gli imprenditori le loro associazioni sia i comuni in un'attica davvero che poi consenta di rivitalizzare un settore molto importante del nostro paese e garantire che tutti quanti finalmente come dire escano da queste forche caudine della Volkestel e pensino non più di avere un qualcosa che chissà quello succederà tra un anno ma direi io per i prossimi dieci anni vent'anni quindi sono tranquillo pieno di imprese sono sicuro di poter contribuire all'economia della mia azienda ma anche all'eccedenza del tessuto territoriale in alcune ipotesi noi stiamo valutando col comune anche investimenti al di fuori dal demanio che però rendano più attrattiva complessivamente la città e quindi partecipare all'illuminazione partecipare a fare delle cose diverse partecipare al ripascimento cioè tutte attività nell'ambito delle quali il privato può fare delle proposte al limite consorziandosi in un insieme di privati alzando le barriere all'ingresso come si dice in diritto di trust per eventuali concorrenti ma facendo quindi un lavoro del quale in trasparenza finalmente ognuno dice io posso fare così e sono sicuro di essere bravo qualcuno probabilmente scusate mi sento la la colloquialità ci lascerà le penne ma cioè io ho vissuto in vita mia situazioni di sub concessioni dove il concessionario pigliava pagava 5 mila euro di domani e poi subconcedeva per uno o due ordini di grandezza di più allora queste situazioni non sono tollerabili quando l'hotel è importante per avere i 20 metri di arenile davanti deve pagare tra virgolette il pizzo quello che sta davanti a lui e che ha concessione capire queste sono situazioni che sono molto rare ma che secondo me non devono più esistere in un momento trasparente la grandissima parte degli operatori di questo settore non sono in questa situazione e crederei che non vedano l'ora di poter valorizzare le loro capacità in una logica di reciproca tranquillità e capacità pianificatoria che poi sale di tutte le scelte importanti perché voi non vi sposate per stare insieme un anno con vostra moglie ma pensate a lungo non fate ricevere le grandi scelte della vita richiedono tempo in questo settore grazie alle mucine che ci sono raccontate il tempo non è più un fattore invece importante è opportuno invece cominciare a ripensare in un'attica nella quale la programmazione consentirà a tutti di stare sicuramente niente vi ringrazio e direi che le ultime considerazioni sono perfette per passare la palla a professor Maurizio Conti che è un sottor ordinario di politica economica all'Università di Genova e che appunto ci vede a capire cosa comporta cosa può comportare nel suo cambio di paradigma diciamo particolarmente metabolizzato in via di metabolizzazione si perdono in preguità del settore se i poscani sembrano temere che le gare potrebbero compromettere la sottentità della loro attività grazie grazie per l'invito all'associazione di dei voti sono d'accordo con moltissime delle cose che ha detto che ha detto professor Monari e ne aggiungerò alcune ora io mi sono occupato mi sono occupato un po' di questo tema diciamo era prima del covid era nel 2019 ricordo con un collega con questo dipartimento dell'economia perché onestamente in quel periodo sulla stampa leggevamo in modo abbastanza univoco c'era unicamente la voce del mondo balneare c'era il mondo politico che era devo dire molto sdraiato sulle esigenze insomma su quello che diceva il mondo balneare e c'erano effettivamente dei toni che ci sembravano allarmistici si parlava di crollo del settore crollo occupazionale si parlava di invasioni delle multinazionali estere si parlava poi dopo un po' si è cominciato a parlare di assento il fatto che non c'era scattata della risorsa e ragionandoci un po' da economisti ci sembravano tutte cose che avessero poco senso ora sulla penso che sulla scattata della risorsa si è stato detto non c'è molto da dire ne direi di una sola è che insomma nel corso base di microeconomia noi insegniamo che l'economia si occupa delle risorse scarse e se una risorsa non è scarsa il modo per capirlo è uno è semplice è fare la mia se la risorsa non è scarsa il prezzo di giudicazione è semplice quindi è molto secco cioè si può discutere quando si vuole se la risorsa non fosse effettivamente scarsa nessuno io sono convinto che su una spiaggia in Spagna 200 km di euro se si può fare una gara lì il prezzo sarà vicino allo zero qua a Portofino a Zovagli a Sestri Levante la situazione secondo me è un po' diversa quindi è chiaro che la risorsa è scarsa però anche su questo non vorrei perderci davvero più tempo per come diceva il suo Francesco prima sono abbastanza abbastanza inutile allora sui crollo occupazionale allora perché non mi convince perché secondo me in prima approssimazione potrebbe non succedere niente di eccezionale allora il punto è abbastanza semplice ora come possiamo descrivere l'organizzazione industriale di questo settore ora probabilmente per il tuo conto del fatto che sì c'è un po' i vari punti c'è qualche spiaggia libera ma sappiamo benissimo ed è vero che varia a livello locale quindi magari io ho molto in mente la Liguria in altre regioni potrebbe in altre zone in altre province potrebbe essere un po' diverso ma c'è una forte domanda e c'è un accesso che è limitato perché ci sono un po' di spiaggia libera ma c'è una bella fetta di accesso tramite stabilimenti valentieri da un certo punto di vista visto che ci sono come posso dire dei vincoli di capacità che amerebbero gli economisti c'è una grossa domanda e non so che bene cosa vuol dire a volte non si riesce ad entrare nei stati stabilimenti valentieri in certi periodi dell'anno in certi momenti della settimana possiamo parlare di un oligopolio con delle capacità limitate in qualche modo questo fa spiegare i prezzi siano più alti rispetto al costo di produzione del servizio c'è fondamentalmente quella che gli economisti chiamano una rendita oligopolistica cos'è una rendita oligopolistica è di fatto un profitto che viene fatto dall'imprenditore in eccesso rispetto al costo della risorsa negli usi possibili alternativi in attività simili con un profilo di rischio simile un bar non lo so quindi da libro di testo se andiamo nel caso estremo nel caso di cui non siamo ovviamente nel settore del mondo balneare ma se andassimo nel caso estremo per semplicità il monopolio insegniamo ai nostri studenti che il monopolista fa appunto degli extra profitti e il valore di questo extra profitto cos'è? è il valore che il monopolista sarebbe pronto in una gara a offrire per diventare per gli anni successivi il monopolista quindi da un certo punto di vista ci sono molto probabilmente degli extra profitti lo vedremo dalla gara e per profitti cosa intendo? intendo il fatto che un imprenditore balneare ottiene mediamente di più probabilmente rispetto a un salario normale che si potrebbe dare e un rendimento normale sul capitale derivati dall'investimento cosa intendo per normale in settori con un polsino di rischio simile è possibile stimarlo ci sono dei metodi ma non è davvero questo il punto la gara ha proprio la funzione di fare emergere se esiste questo extra profitto in alcune zone non esistere probabilmente a portofino a Santa Valerica Ligure probabilmente emerge e la gara dovrebbe fare emergere questo extra profitto se non c'è meglio siamo tutti contenti se c'è visto che stiamo parlando di De Magno secondo me è giusto che se ne ha proprio lo stato e non un nobile con investitura da 3 a 4 generazioni mi sembra che sia importante potrebbe volere entrare sul mercato anche un giovane che non può permettersi di pagare magari ecco una licenza in maniera centinaia e centinaia di mila di euro ora in un contesto di questo genere il canone ovviamente cosa succederebbe di fronte a una gara la gara può essere fatta in mila modi la può essere fatta anche come diceva prima il professor Monari in tema di quanti investimenti facciamo come li facciamo se venisse fatta dal punto di vista invece anche a buona parte dell'osserta quanto il imprenditore è disposto a pagare per il soldo del servizio beh in prima approssimazione quello è un canone di accesso al mercato il canone di accesso al mercato è una cosa che paghi una volta non rientra più nelle decisioni di prezzo dell'imprenditore quindi fondamentalmente le decisioni rimangono inalterate quindi se l'impresa che entra ha la stessa efficienza di quella che dovesse subentrare molto probabilmente le decisioni sarebbero le stesse i prezzi sarebbero simili perché c'è una rendita di monopolio di oligopolio se vogliamo di quella se ne approprierebbe lo Stato in fare di gara non c'è non c'è altra rendita oligopolistica o monopolistica quindi di fatto il prezzo sarebbe più o meno quello che verrebbe quello che c'è adesso in l'altra parte e quindi fondamentalmente anche le decisioni anche data la domanda il numero di persone sarebbe più o meno lo stesso e il numero di bagnini o di persone che lavorano al bar o al ristorante sarebbe più o meno quello l'unica differenza sarebbe che una quota di questo rendita oligopolistica viene trasferita dall'intrenditore balneante allo Stato posso anche pensare che uno dei benefici delle gare è così in tantissimi settori è quello di migliorare la qualità del servizio di riuscire a risparmiare a organizzare meglio il servizio o migliorare la qualità e quindi da quel punto di vista lì le cose potrebbero cambiare comunque un beneficio delle gare che mi aspetto e che magari appunto possa migliorare il parco o meno la qualità del servizio quindi da questo punto di vista il ragionamento che avevamo fatto era che non ci si aspetta un crollo occupazionale nel settore per l'acrossimazione più o meno le cose dovrebbero rimanere le stesse secondo le invasioni delle multinazionali ora non mi riduzione che quello dei servizi medievaneari sia un servizio caratterizzato da forte economie di scala non mi pare quindi non vedo perché un grosso imprenditore dovrebbe arrivare in virtù della propria maggior scala produttiva riuscire a fare delle offerte a prezzi più bassi teniamo che appunto di una cosa poi l'unica cosa che potrebbe succedere faccio qua l'avvocato del diavolo potrebbe arrivare veramente l'oligarche a russo che dice mi prendo tutta la Liguria e a quel punto lì in tutta la Liguria appunto divento veramente monopolista al tuo interesse però questo è ridicolo perché come diceva giustamente il professor Munari è sufficiente scrivere non lo so che c'è nel bando di gara appunto che si può privilegiare la piccola e media impresa avere una certa destinazione per l'uso immagino non so se juridicamente si possa fare ma si può anche dire che in una provincia non si può avere più di una o due concessioni la cosa è finita lì perché anche questa dei multinazionali mi è sempre sembrata una cosa fondamentalmente ridicola c'è il punto del capitale investito è chiaro che occorre che se c'è del capitale investito che sia la piscina che sia il ristorante che siano le cabine che non è stato ancora ammorbizzato questo deve essere ovviamente istituito deve essere previsto dal bando quando ci preoccupa di servizi pubblici locali complessi l'acqua la distribuzione dell'elettricità la distribuzione del gas la valutazione degli impianti non ancora ammorbizzati è molto complessa perché spesso il valore contabile è un valore molto approssimativo del valore economico vero e dei gas non mi pare onestamente questo caso quindi fondamentalmente direi che questo è un non problema basta guardare al fondo ammortamento se c'è ancora una bella fetta non ammortizzata di asset non ammortizzati questo deve essere pagato da sull'entrante ovviamente ulteriore punto allora spesso io penso che alla fiscina sono d'accordo con il professor comunale che alla fine molto rumore per nulla perché sono convinto che alla fine delle gare vinceranno quasi tutte gli incambi di riuscenza guardate è così in Francia che il settore idrico sono cent'anni in Francia che fanno le gare ora io è un po' che non ho più di questo problema ma quando ero più giovane ci lavoravo su questi temi e fino ai primi anni 2000 mi pare che il cambio dell'incambi del settore idrico inglese scusate francese dove 50-60% dei comuni sono gestiti da 5-6 grandi grandi imprese idriche sarà venuto 3-4 volte non di più perché ma perché il cambio ha delle conoscenze maggiori del settore l'operatore vanneare conosce la composizione della domanda conosce la composizione conosce il clima conosce le giornate buone mediamente ha un vantaggio informativo e in teoria delle aste c'è una cosa che noi chiamiamo maledizione del vincitore le comunisticavano maledizione del vincitore perché perché fondamentalmente se c'è un bene che ha un valore abbastanza simile per tutti cioè l'accesso al marco quindi immaginiamo anche di avere 10-20-100 imprenditori che partecipano a una gara non ci saranno mai ma e che abbiano tutti lo stesso valore abbiano tutti lo stesso valore al bene ovviamente hanno delle stili un po' diverse ma se c'è uno in particolare che ha delle informazioni migliori gli altri si rendono conto del fatto che se vincono probabilmente vincono perché sono stati troppo ottimisti sul valore di quel bene ovviamente non tutti sono stupidi ne verranno conto e quindi in un contesto come questo ci sarà il termine inglese cioè tenderanno a offrire un prezzo di applicazione più basso proprio per evitare non correre nella maledizione del vincitore esiste questa cosa esiste nell'estruzione dei posti petrolitori negli Stati Uniti l'hanno visto nelle gare dello spettro e succederebbe anche qua quindi da questo punto di vista come posso dire saranno probabilmente gli operatori in cambe che riusciranno a vincere probabilmente con offerte che non neanche arriveranno al valore vero tra virgolette della rendita popolistica che ci parlavo prima tanto che dal punto di vista puro della teoria economica immagino che non si possa fare dal punto di vista della teoria legale verrebbe quasi da dire che bisognerebbe quasi svantaggiare un certo punto e altro che favorirvi dal punto di vista dell'economica bisognerebbe quasi sfavorirvi per incentivare l'arrivo di nuovi operatori quello che porterebbe invece a favorire l'incambient è la valutazione dell'asse ma anche lì ritorniamo che è un asset semplice facilmente valutabile quindi quantomeno in prima approssimazione mettiamola così non vanno né favoriti né sfavoriti tutto sommato però ritengo che quello che succederà fondamentalmente sarà veramente molto rumore per noi cioè la gara riuscirà probabilmente a far sì che gli episodi più eclatanti ecco verranno giustamente probabilmente eliminati ma la stragrande maggioranza degli imprenditori valneari penso che riuscirà a gestirsi a gestirsi il suo a risulta entrare insomma certo bisogna vedere come vogliamo organizzare la gara se lo Stato volesse effettivamente fare cassa dal patrimonio dal patrimonio valneare penso anch'io che non ci diventeremo ricchi e risolveremo il problema del debito pubblico qualcosina forse potrebbe entrare ecco insomma nei casi più eclatanti insomma erano usciti no i casi di alcuni alberghi di Santa Margherita in Ligone dove la stanza costa 3.000 euro a notte e pagavano 4.000 euro a l'anno ecco per la spiata ecco lì forse un po' di gara forse qualcosina il comune di Santa Margherita in Ligone potrebbe ottenere ecco però insomma ecco in prima approssimazione veramente quello che è successo con questa leva nell'istoria invece è proprio quello di avere illuso la categoria intera per 10-15 anni di aver bloccato gli investimenti ok e e poi di arrivare a quello che dicevo prima io proprio sormonari giuridicamente si dovrà arrivare a fare le gare di corsa magari probabilmente fatte male all'italiana quando invece con un po' più di coraggio si sarebbe potuto dire ma insomma non avete niente da tenere avete anche delle competenze entro certe misure un po' di protezione si può dare previsto mi pare nella normativa europea una sorta di favore per le piccole medie imprese anche nel procurement mi pare per cui veramente io penso che si sia fatto veramente molto rumore per nulla ma è una storia piccola che però mi sembra purtroppo esemplificativa di molte cose che succedono in Italia e si è dedicato molto spazio si è bloccato un settore quando forse non era il caso serve tutto pensare ad altre cose più più importanti grazie tutto questo va inserito nonostante sia quando si discute di turismo eccetera uno dei temi che occupa il 90% della gestione facendo il 10% del tempo e dell'attenzione a tutto quello che ci sta intorno è anche tutto importante inserire il privato sulla modernizzazione sia nelle procedure sia nella gestione degli stagalimenti barriari nel contesto più ampio della politica del turismo e del tentativo di rendere più attrattivo sempre più attrattivo le coste italiane e questo che siamo in misura le coste riguri e su questo punto volevamo chiudere la discussione di oggi con Silvia Noggia che è oltre a un'imprenditrice nell'ambito del turismo anche una esperta che può dire che è un turismo è una delle protagoniste di Icon che è il principale appuntamento internazionale dedicato al turismo con sede in Italia e che ha un po' di questioni da affrontare ok grazie per l'invito il mio punto di vista è molto diverso mettete insieme alcune di queste cose dal punto di vista del turismo quindi che è il settore toccato principalmente da tutta questa evoluzione mi ricollego solo una cosa dal professor Conti sulle multinazionali salvo rarissime eccezioni dovute alle specifiche di destinazioni particolari e di alto grido dopo il scontato che non avverrà perché il turismo è un settore scarsamente produttivo e ad alta manovalanza ovvero bisogno di tanto personale la giornata media dei lavoratori del turismo produce oggi quello che produceva negli anni 60 quando il fenomeno ha preso campo quindi una multinazionale non ha senso che investa se non per questioni di brand location particolari insomma non saranno mai interessate a strutture turistico-ricettive balneari così frammentate piccole come quelle italiane per lo stesso motivo è il paese con meno catene alberghiere del mondo proprio per queste specifiche quindi il balneare è ancora più ridotto ha ancora meno senso questa cosa quindi questo era solo per quando sento dire questa cosa qua mi si drizzano un po' i capelli perché non ha nessun senso dal punto di vista socio-economico per il settore questa immagine è una provocazione questa è una foto che ho scattato il 9 novembre al pomeriggio subito dopo parlando a Brighton Brighton in Inghilterra il meteo è leggermente diverso da quello del Levante Ligore dove ci troviamo le spiagge libere erano tutte attrezzate gli stabilimenti erano tutti operativi questo è il 9 novembre questa cosa io quella settimana lì sono a Londra tutti gli anni perché c'è il WTM che è il World Travel Market e giro per l'Inghilterra questa cosa è vera anche nel Devon in Cornovaglia insomma è la norma e mi fa sempre sorridere perché io di solito decollo da Sestriponente dove tutto chiudo dal 30 settembre mediamente quindi l'impatto psicologico è un po' così perché è una nuova stagione perché quello che sta succedendo in questo momento è una grande opportunità dal punto di vista imprenditoriale se si vuole vederla nel 2010 non lo era ancora perché bisognava essere veramente un imprenditore illuminato nel settore turistico per capire cosa stava per succedere oggi siamo in una fase in cui il turismo balneare e costiero e ora poi vedremo dei numeri che resta sempre molto importante si sta spostando si sta modificando e il sud del Mediterraneo dove noi siamo è quello che sta già subendo l'impatto quindi questa è una grande opportunità qui ho messo un po' di numeri questo a livello globale da sapere che in Europa ha rappresentato il turismo 572 miliardi quindi al 5% del PIL di questo il turismo costiero nel Mediterraneo rappresenta circa il 40% quindi nel 2022 era 218 miliardi di euro e ha generato il 64% dell'occupazione di quella che viene definita la blue economy quindi tutta l'occupazione turistica sulle coste pressoché incide tantissimo in termini economici nei paesi meno sviluppati dove è l'economia ahimè di traino io lavoro nel turismo ma che sia l'economia di traino per un paese è un grosso problema perché vi ho detto è scarsamente produttiva il turismo vive meglio dove le economie di traino sono quelle industriali altamente produttive e di rimando di riflesso cresce e si sviluppa quindi Croazia Portogallo Spagna e Italia vivono di turismo al 60% di turismo costiero è un handicap in realtà va bene perché mantiene un certo status quo ma va sempre meno bene perché il turismo costiero è sempre meno interessante gli italiani che sono in teoria quelli che lo desiderano di più e ve lo faccio vedere nella slide dopo questo poi torniamo un attimo indietro vi ho messo le slide perché poi magari vi possono interessare ma sono veramente dati sul turismo economici che rapportano le reazioni in base all'inflazione degli ultimi anni e quanto costiamo noi costiamo ancora relativamente poco rispetto alle altre destinazioni internazionali che hanno lo stesso un'offerta analoga ma poi magari ci torniamo dopo con calma ok noi siamo il popolo che desidera di più la vacanza al mare che ancora la considera un valore quello da fare questo viene perché in Italia il turismo a parte il Grand Tour eccetera che purtroppo esiste sempre meno però si è sviluppato con il ventennio fascista quindi dopo lo sviluppo del turismo balneare in Germania e in Inghilterra noi siamo arrivati dopo nonostante il meteo ventennio fascista e poi le colonie poi il boom economico negli anni 60 era un turismo di massa era un turismo di massa del mese di agosto chiusura delle fabbriche questa cosa ce la portiamo ancora dietro in qualche modo perché continuiamo a chiudere le fabbriche e le aziende in città nel mese di agosto e per questioni culturali però non siamo il primo mercato nemmeno a Domestico ormai si sta erodendo questa cosa qua perché? perché guadagniamo sempre meno e perché anche noi soprattutto dal covid in poi abbiamo subito l'influsso ai trend del turismo internazionale che ovvero non ha sempre meno senso una vacanza solo balneare anche noi andiamo in vacanza dove possiamo fare altro outdoor ma anche visite culturali interessi questa cosa era già vera da prima sempre più vera per gli stranieri che lo desiderano di meno ma lo praticano di più perché? perché hanno più disponibilità economica i tedeschi in principal modo viaggiano molto di più di noi e hanno budget più elevati a disposizione del turismo i francesi grazie al loro sistema delle 35 ore o 205 giorni lavorati all'anno in base al tipo di impresa e alle ferie non so se sapete come funziona ogni settimana dell'anno c'è almeno una provincia di Francia in festa anche a livello scolastico per cui viaggiano di più tutto l'anno hanno più budget a disposizione per farlo di conseguenza sono quelli che praticano di più il turismo costiero in Europa si muovono molto di più di noi perché è un'opportunità perché noi in Liguria in primis le dinamiche salvo le recezioni sono il turismo balneare perché si fa fatica a trovare posto nei stabilimenti balneari perché da un anno all'altro pur non sapendo come piazzerò i lettini e a che prezzo li venderò io ne tengo una quota a parte che in certi comuni arriva al 90% per proprietari di seconde case i residenti i residenti dei comuni dell'introterra che sono quindi i comuni limitrofi di fatto all'ultimo minuto quando ho le tariffe io vendo pochissimo tengo un 10% che è risorio e che va via tendenzialmente il sabato e la domenica se c'è bel tempo e lo faccio con gente che frequenta già il comune da tempo perché questo status quo che abbiamo tenuto per anni fa sì che sono rarissimi gli stamenti balneari digitalizzati o la cui offerta è inglobata nell'offerta turistica delle destinazioni è una grande pecca perché di fatto da una parte ad oggi sono riuscita a vendere a rivendere sempre lettini e cabine a chi viene da una vita dall'altro queste persone stanno venendo sempre meno un po' perché gli anziani proprietari di seconde case non ci sono più i loro familiari seguono altre dinamiche quindi queste persone se una volta se quando era ragazzina io bloccavano dal 10 giugno al 30 settembre ora prendono due o tre settimane a volte non continuative quindi si sta erodendo un po' questa cosa con gli stranieri non avviene gli stranieri ci sono sempre organizzano i loro spostamenti con largo anticipo se si punta beh chi viene d'oltre oceano il grosso delle prontazioni viene tra 15 e 13 mesi prima perché? perché voli sono meno caro un francese che quindi è turismo confinante viaggiano in auto si organizzano più all'ultimo minuto ma si organizzano comunque tendenzialmente tra i 7 e i 5 mesi prima quindi dal punto di vista imprenditoriale è una grande opportunità perché se mi organizzassi in anticipo riuscirei a vendere prima vendere meglio avere un'offerta modulare riuscirei a vendere anche in caso di maltempo perché ovviamente chi viene da un altro paese non chiama il giovedì per prendere il lettino il sabato in base alle previsioni meteo ho organizzato la vacanza e se ne sta perché così avviene queste sono le dinamiche dinamiche che la Liguria non sta sfruttando minimamente ahimè io poi vi ho messo un po' di dati questi sono dei dati per una società per cui faccio consulenza adatta a click company sono presi da un prodotto dedicato alle destinazioni qui ho messo il turismo balneare questi sono i dati dell'Italia ve li ho messi perché mi fa vedere i mercati di riferimento i mercati di riferimento come vedete variano per pochi punti percentuali ma stanno variando dal 2019 pre-covid al 2023 non ho preso riferimento al 2022 2021 2020 perché i dati erano completamente sballati perché è importante capire qual è il mercato potenziale che io posso attrarre perché le dinamiche da un mercato all'altro cambiano posso modulare la mia offerta posso decidere qual è il mio target ideale e cosa offrirli e quando farlo quando promuovermi quando iniziare a vendere insomma quello che tecnicamente si chiama fare revenue quindi il ritorno sull'investimento il ROI è molto più alto questo è il dato Italia ovviamente poi in Liguria qui vi ho messo anche una questione di andamento di sentiment e trend in Liguria i mercati sono diversi e i trend anche sono diversi ovviamente abbiamo il picco ad agosto in alto sulle presenze e sotto è il sentiment ovvero il valore percepito dal turista è normale che ovviamente con i picchi di presenza il sentiment cali quindi questo è un trend assolutamente normale da noi rispetto ad altre regioni cala di molto cala di molto perché perché in queste recensioni o conversazioni e tracce digitali online noi paghiamo anche lo scotto del trasporto perché sì che sto recensendo in questo caso solo la struttura balneare però se ho fatto sei ore di coda per arrivarci arrivo già tendenzialmente un po' così nervosetto ed è molto difficile accontentarmi rispetto ad altre regioni noi questo scotto lo paghiamo moltissimo e più nei weekend ora questa cosa bisognerebbe andare a prusondirla io ho messo solo il globale da maggio a settembre però ci sono i picchi nei weekend se andate a vedere con le code in autostrada o i ritardi dei treni ovviamente queste curve si muovono di pari passo in maniera abbastanza impressionante a volte e poi gli ho messo i mercati che come vedete non sono quelli della destinazione Italia noi abbiamo altri mercati di riferimento ovviamente vedete va sino a 170 io ho messo i primi 5 perché sono quelli che da imprenditore appunto a questi a meno che non voglia andare a valutare una nicchia di mercato il mercato francese è importante però anche qui non è uguale dappertutto la provincia da cui vengo io grazie o a causa delle 5 terre del golfo dei poeti ha mercati di riferimento diversi nettamente diversi se noi se noi andiamo a togliere gli italiani che sono Parma Reggio Modena Pavia Milano in provincia di Spezia l'italiano è questo non c'è nessun altro cioè gli altri arrivano per errore ovviamente io dovrei fare un'offerta se io gestissi uno stambio di vento balneare farei un'offerta congrua con ritmi di vendita e di promozione di marketing tarata su questi altri mercati perché hanno capacità di spesa maggiore mi consentono di organizzarmi con più largo anticipo e viaggiano viaggiano per cultura cosa vuol dire fare un'offerta per i francesi vuol dire che io dovrei cercare di mettermi d'accordo con gli hotel ma anche con i musei con tutto quello che è outdoor perché loro privilegiano le attività culturali però fanno anche balneare cioè questi sono questi sono atti di balneare queste sono persone che hanno affittato un lettino o sono state in un hotel che aveva la spiaggia di cui hanno soffrito nel loro pacchetto quindi sono numeri importanti ma hanno bisogno di un'offerta di un certo tipo l'australiano fa fatica ad andare nei nostri stabilimenti preferisce non va nella spiaggia libera perché culturalmente è più difficile però predilige la spiaggia libera attrezzata cioè voglio il lettino ma voglio che tu me lo metta tendenzialmente più o meno dove voglio e magari voglio affittarne uno io che sono la mamma di famiglia e mio marito e i bambini stanno con il telo in spiaggia questa cosa negli stabilimenti balneari in Italia non è possibile è un ombrellone e due lettini o dove siamo messi male male è un ombrellone e due sdraio che per gli stranieri è lo sdraio per leggere il giornale o il libro in riva al mare mi va bene fuori stagione col plaid che peraltro a Brighton viene fornito con la sdraio quindi l'analisi dei mercati è importante e poi vi ho messo la cornovaglia perché vi ho messo al cornovaglia perché contrariamente a quello che possiamo pensare è la regione competita della Liguria sul malleare dal 2017 ad oggi ogni anno un po' di più ci sono stati turisti italiani che quest'anno non sono venuti in spiaggia da noi mentre erano clienti abituali sono andati in cornovaglia perché perché l'offerta è analoga il rapporto qualità prezzo ahimè è maggiore perché non è ancora turismo di massa anche se ci stanno arrivando di fatto la cornovaglia questo è turismo passivo nel senso la cornovaglia non si promuove all'estero non fa promozione sul turismo omaleare lo fa sui borghi su Mont Saint Michel che hanno anche loro e quindi io starei molto attenta a questa cosa qua perché se di turismo passivo ovvero basato sul passaparola degli utenti loro stanno erudendo la clientela Ligure una volta che hanno sistemato problemi pratici che hanno che al trasporto pubblico hanno strade ancora più strette delle nostre anche questo abbiamo in comune una volta che stanno risolvendo questo tipo di problema e stanno organizzando l'offerta turistico recettiva perché hanno pochi posti letto in riva ma la stanno strutturando e lì le catene stanno investendo contrariamente da noi perché la legislazione è diversa qui rischia di grattare sempre di più quindi ovviamente questi dati perché noi consideriamo se non vengono in mare da noi vanno in mare ma no quelli sono mercati diversi sono persone che cercano cose molto diverse non vanno a Castiglione della Pescaia se non vengono a Santa Margherita quelle sono persone diverse sono anche italiani diversi perché a Castiglione della Pescaia vanno i toscani e i romani quindi il mercato domestico oltretutto è distribuito per prossimità geografica che è un ragionamento un po' diverso e qui ho messo anche gli altri mercati che hanno perché sono tutti mercati che ci stanno in cui siamo in concorrenza diretta quindi ho messo i dieci per farvi capire che stanno proprio prendendo questi sono i dati Istat Luglio 2019 è stato il picco assoluto arrivi e presenze turismo balneare è stato il picco assoluto 2022 c'eravamo quasi sembrava recupero post-covid 2023 è calato perché è calato perché nel mentre questa è la costa della Cornovaglia il 10 novembre questi sono i tipi di spiagge che hanno loro con costiera outdoor trekking eccetera perché è cambiato perché nel mentre il covid ha dato un'impennata ovviamente qui da noi inizia a fare caldo ma fa caldo anche per gli italiani stare in spiaggia ad agosto da noi quindi la gente inizia a spostarsi in spiaggia ci vada a maggio ci vada a ottobre ci vada dopo la metà di settembre quindi c'è questa dinamica di fatto il turismo balneare ha picchi in positivo negli ultimi dal 2017 ma ha avuto un'impennata post-covid sul mar baltico che è dove avevano inventato il turismo balneare insieme al Devon e picchi in Inghilterra Galles Cornovaglia la costa danese le spiagge della Norvegia sono attrezzate oggi non lo erano sino al 2019 sono attrezzate in modo molto diverso dal nostro poi vi faccio vedere l'ultima foto è quella per farvi capire sembrano le Seychelles no è la Norvegia quindi c'è una questione di cambiamento climatico più a nord è sempre più gradevole passare l'estate 25-27 gradi è piacevolissimo è più piacevole anche per noi il turismo se io mi sposto e lascio la mia nazione deve essere un mix di offerta leisure quindi spiaggia o montagna che sia ma anche attività culturali visite deve avere un senso fare quello spostamento lì inoltre noi in particolare ma anche negli altri paesi europei si fanno sempre meno bambini fare meno bambini cosa vuol dire che io non sono più legata alle vacanze scolastiche gli altri paesi non hanno più le chiusure estive non ce l'hanno più neanche le fabbriche le chiusure estive all'estero non esiste una fabbrica che chiude ad agosto all'estero quindi perché devo andarmi a spostare quando fa più caldo quando è più caro quando quell'alternativa lì posso trovarla in posti per me più vicini o gradevoli e spostarmi altrove quando c'è stata grande richiesta qui io lo dico io gestisco una struttura ricettiva all'Evanto e quindi i dati del Levante lì li analizzo tutti i giorni un po' perché ho accesso ai dati un po' perché per interesse diretto abbiamo avuto una domanda esagerata sul mese di ottobre dall'ultima settimana di settembre al mese di ottobre qual era il problema? gli sabenti di millenari erano chiusi i tedeschi era pieno di francesi era pieno di americani quindi la spiaggia era io ti presto il pelo mare ma non posso fare altro gli stabilimenti sono tutti chiusi quella era una grande opportunità per fare il revenue quando ho le richieste io nel Levante Ligure per la spiaggia lo sto avendo in questo momento per la prossima stagione non avrò risposta che vada bene sino al weekend di Pasqua quando alcuni stabilimenti Ligure inizieranno ad aprire la parte bar e quindi inizieranno a mettere la testa su dove posiziono gli ombrelloni qua gli ombrelloni come ora quest'anno un po' particolare per la Volk però anche negli anni prima era così quindi questo è tutto spreco in termini veramente economici e professionali perché ad oggi no no non interessava o non viene visto da chi è gli stabilimenti valneari perché ad oggi il fatto di dare il 90% a quelli che noi chiamiamo i villeggianti o ai residenti fa sì che mi garantisco il mio trantran ed è così qualche d'uno più illuminato c'è i bagni e margherita a finale sono aperti 365 giorni l'anno salvo forti mareggiate il loro ristorante e i lettini sono pieni qualsiasi sabato e domenica dell'anno e si sono tarati sull'offerta che c'è in Costa Azzurra quindi anche loro complete con servizio al lettino servizio bar durante la giornata quindi qualcuno più illuminato c'è ma ad oggi bisognava incappare in quella cosa lì questo cambio ripeto nel 2010 dal punto di vista imprenditoriale era troppo oltre per ragionarci sopra ora secondo me capita bene perché è una vera opportunità questo è il Mar Baltico no lo dico questo è il Mar Baltico noi non abbiamo questi lettini ma cosa vuol dire questa immagine o l'immagine dell'esdraio a Brighton che vi ho fatto vedere a novembre che noi ora immaginiamo vediamo immaginiamo e vediamo le schiere di cabine ombrelloni lettini per gli stranieri è inconcepibile pagare quel servizio lì se lo faccio lo faccio torto collo perché in spiaggia libera a meno che io non mi sveglia alle 5 del mattino non riesco neanche a stendere l'asciugamano e perché se sono abituato comunque a avere un asraio un lettino perché sono uno che magari legge il libro tutto il giorno e lo faccio da seduto lo faccio torto collo prendo il lettino ombrellone ovviamente abbassa tantissimo la percezione e la reputazione di qualsiasi destinazione perché loro si immaginano spazi di questo tipo che oltretutto portano maggiore revenue maggiore introiti a un imprenditore che non vuol dire fare tutta la spiaggia così perché io posso avere di fatto sono un po' così un po' se vedete ci sono degli ombrelloni con l'esdraio e poi c'è il lettino che posso piazzare in modalità libera che è la cosa che costa di più è la cosa che costa di meno all'acquisto alla gestione ma la cosa che vendono più cara perché il lettino che io piazzo a richiesta ovviamente ha un valore maggiore rispetto a un qualcosa di fisso e poi hanno le zone amache e poi hanno ovviamente il wifi anche in spiaggia perché per portare turisti tutto l'anno devo dare la possibilità alle sfortunate come me che possono viaggiare solo se lavoro quelle due tre ore al giorno tutti i giorni se no non mi posso muovere ed è le sfortunate come me ormai sono una quota parte immensa di mercato turistico che hanno bisogno di lavorare quindi è un'opportunità da questo punto di vista io spero che verrà colta verrà vista al di là del panico panico e generale insomma anche per un imprenditore uscente fare un'offerta che non sia solo economica ma anche di miglioramento qualitativo di gestione qualitativa può avere un grande impatto sulla propria azienda grazie grazie sì credo che hai dato delle coordinate e in parte rispondono anche a quello che si diceva prima sul tema delle economie di scala credo nel senso che noi diciamo nella rappresentazione un po' fumentistica di questo dibattito quando pensiamo alla scala abbiamo in mente appunto lo ciclo che arriva e si compriano mille chilometri di costa ma economia di scala magari vuol dire anche avere la forza per avere un dipendente in più o fare un tipo l'investimento in più e veramente comprare dotare la spiaggia di quei o digitalizzare consentire pronotazioni online o programmare tutto l'anno o tenere banalmente aperto tutto l'anno che vuol dire anziché affidarsi a lavoratori stagionali con un po' di fuori d'industria eccetera costruire una diciamo un'impresa vera e propria nel senso nel senso in cui lo sono tutte la gran parte degli esercizi dell'attività economica in quel senso lì io credo un po' di spazio di crescita anche per via di scala di scopo di gamma con altri prodotti ci sia che possa essere significativa e però richiede anche di avere dei momenti di rottura in cui tu sei chiamato a decidere cosa fare tu o chi per te cosa fare di quella concessione esattamente come il tema che oggi il modello di business di queste attività è essenzialmente un modello di business caratterizzato da costi bassissimi e che quindi si sa perché tengono più da ottobre o aprile perché gli costa di più probabilmente assumere le persone organizzare eccetera spesso studenti che quindi in quel periodo hanno gli esami la scuola avanti alla pesca che portarsi a casa quegli ricavi aggiuntivi è chiaro che se tu invece ragioni su un battente di costi un po' più elevato e quindi ti obbliga a generare ricavi a loro volta più elevati o cercando margine intensiva cioè far più soldi sul turista che viene perché gli vendi più cose ma anche margine estensiva cioè portarti a casa più turisti perché anziché da maggio a settembre ce l'hai da marzo a novembre o da marzo a dicembre o apri a cavallo di Natale o che ne so allora è chiaro che cambia il modo in cui tu percepisci la tua aggiungo solo una cosa questa dinamica ovvero arrivare allo shock e alla crisi per vedere l'opportunità è comune a tutte le nicchie a tutti i comparti del turismo il turistico ricettivo l'ha vissuto qualche anno fa noi lo chiamiamo effetto airbnb in realtà è stato affittacamere bed and breakfast la stessa cosa hanno messo dei competitor reali estremamente competitivi davanti hanno costretto il settore alberghiero a rinnovarsi e a guardare oltre sta succedendo ora in ritardo rispetto agli altri paesi europei in particolare nel settore della ristorazione da qualche anno i bar fanno ristorazione seppur con il suo gelato precotto però di fatto sono competitor attivi molto competitivi stanno costringendo il comparto della ristorazione a guardare oltre e a nuovarsi quindi è un po' triste che bisogna arrivare al panico da crisi 15 giorni prima per guardare oltre però di fatto è potenzialmente molto positivo ed è l'unico modo perché il nostro paese resta su questo mercato qua